Adesso ci siamo e andiamo a spiegare come fare iLogic per Inventor. Andiamo a vedere un pochettino. Allora, la regola di iLogic. Si ascolta, si ascolta Pietro. Ottimo, grande Daniel. Allora Daniel, la regola, il pacchetto delle regole si trovano qua, dove sono i file. Ok, i file, basta scaricare qua questa, schiacci sopra e arriva il pacchetto. Allora, faccio vedere come, per quelli che non sanno, vado sul post e schiaccerò di nuovo qua. Quando schiaccerò qua, mi viene la cartella dove è stato scaricato. Ok? Ok. Io adesso però, apro con il gestionare, un pochettino, facciamo un po' di tempo. Apre con il gestionare, no? Perché io ho in questo gestionare anche le password salvate, ok? Se no, siccome faccio le password criptate, no? Quelle semplici e una per tutti. Ed è giusto così, perché se ne fai una per tutti, una volta che uno lo sa, è finita, Daniel. Finite e non va bene. Ok? Quindi, adesso io vado nella cartella dove mi porta a salvare ok Allora, qua è la cartella dove mi è arrivato il file zippato, ok? Ok. Allora, quando tu lo vuoi aprire si scacci sopra lui ti chiede la password no? Vedi? Mi dice senza password non vai avanti ok? La stessa cosa se vado ad aprirlo così vado ad aprirlo mi chiede la password ok? Ok. Ed è giusto che così, Daniel perché se no metto in un gruppo pubblico tante cose esatto, esatto poi extra gli dico per estrarre i file vado a dire ok e mi chiede la password io l'ho incollata la password è bella lunga vedi? Sì ci siamo? Daniel ci siamo? Ok Io cosa faccio? Io vado a tagliare questo file no? Lo taglio no? Non quello aspetta adesso la tastiera funziona eh? Stamattina abbiamo fatto tre ore senza tastiera eppure eppure hai visto come mi arrangio Daniel? Eppure ce l'hai fatto ok e noi calabresi ci dobbiamo arrangiare noi abbiamo visto nel terzo mondo sai in Calabria è diverso il mondo allora io vado a tagliare col comando qua taglia di Windows e sai io fino a due settimane fa ho usato tantissimo quasi per un anno Windows 11 e ora sono tornato a Windows 10 però da casa sempre Windows 10 ho avuto va bene quando cambio due Windows cambia eh diciamo un pochettino comunque vado a tagliare questa cartella qua e la vado a portare sistematicamente dove lavoro io no? però qua è nei tools io ho questi dei tools qua devo fare un po' di pulizia e vado a inventor giusto? vado a inventor qua c'è una cartella regole no? allora io la metto qua tanto poi la butterò è solo per fare vedere solo per fare vedere come funziona tutto ok? allora mo io qua questa cartella te la faccio vedere solo aspetta un po' mi ha fatto cartella sotto cartella mi ha fatto ok? perché quando fai il zip ti fa un'altra cartella lui eh e quindi andiamo qua indietro sono te lo consiglio a te di togliere quella cartella che ti fa lui una volta che sei qua nella cartella dove sono che poi questi la puoi rinominare la puoi solo regole per esempio puoi fare così regole e logic sempre per il gruppo no? ok? ebbene tanto per farti vedere allora io vado qua e mi copio il percorso ok? inventor dove lo troviamo qua è qua inventor facciamo di questo pezzo qua che abbiamo fatto stamattina un disegno ok? di questo ok andiamo ad aprirlo lui adesso tra qualche secondo lo aprirà e senza problemi ti ricordi che stamattina ha fatto dei problemi l'abbiamo spiegato in precedente eccolo è arrivato lui è arrivato lui io però qua adesso inizia il comando il lavoro di i logic io vado qua no? allora vedi qua c'è i logic se non c'è bisogna attivarlo ok? regola i logic regole esterne vado e dico aggiungi regola esterna io gli dico vai qua e fammi vedere tutti i formati che ci sono qua e sono questi ok? ok questi li puoi anche rinominare importante che però lasci il punto i logic i logic vb questo è importante però il resto poi dirgli il tuo nome tanto vero che mi hanno consigliato invece di gpj che è grande e più male di qualità un altro formato che poi non l'ho più preso in atto e ho preso solo nota però non l'ho trasformato e comunque poi ti faccio sapere dopo a parte noi rimaniamo sul dvg dxf foto pdf ok? e step ok vado a dire apri cioè collega e mo sono collegati qua ok? questi nomi questi nomi se li vai a rinominare adesso poi perdi il percorso li devo di nuovo aggiungere però guarda devi fare prima prima di aggiungerli se no devo fare il lavoro due volte allora io mi sono copiato il percorso dove vado a fare il disegno di questo pezzo e vado a fare un disegno tecnico con il template del 2024 qua devo fare pulizia perché ormai però a volte a me mi capita qualche lavoro di fare qualche lavoro con i vecchi software e che io diciamo l'ultimo che ho a disposizione credo il 2018 2019 a disposizione allora vedi a noi il disegno tecnico ci interessa poche e niente daniel ok? però salviamolo salviamolo nella sua cartella a fianco dove è l'altro pezzo ok ed è fatto ok? ed è fatto adesso però io avevo la regola già nel template ha cambiato qualcosa aspetta fammi cambiare un pochettino un pochettino un pochettino di altri dati di altri dati nella cartella io andrò qua e lui me li sincronizza quando vado qua credo su gestione me li appropia così dal modello vedi me li appropriati no? e sincronizzato un discorso ti farò questo che ho fatto adesso io in sottofondo che non mi ha eseguito te lo spiegherò un'altra volta rimaniamo su iLogic rimaniamo su iLogic ok adesso di qua allora questo formato qua ha già una iLogic già nel template però siccome ho un po' strutturato tutto mi da dei problemi lo andrò ad aggiustare in un secondo momento allora noi diciamo che in una certa cartella vogliamo salvati i file cioè diciamo che ah lo so il motivo perché prima fino a due o tre giorni fa io avevo una cartella che si chiamava qua disegni e adesso questa cartella io l'ho spostata qua scuola 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 poi vado a mettere sign e disegni e qua ci dovrebbe essere ok dato che sto a cambiare tutto dato che sto a cambiare tutto anche qua faccio una miglioria anche qua faccio una miglioria allora vado qua Pietro ok eh bene così vado qua e dico neutral format la sto facendo adesso sta cartella ok formato lo facciamo in grande allora io ho fatto questa cartella anche tu te la puoi fare dove vuoi come vuoi uguale dove basta che fai una cartella vai a copiarti questo percorso ok questo è importante lo copi ok una volta che l'hai copiato Daniel vai qua di nuovo su inventor vai qua andiamo sulle regole e logic noi facciamo un dvg o una foto e un pdf ok dxf lo lasciamo vado qua io vado qua io diciamo a modifica regola l'unica cosa che devi modificare è il percorso il percorso sì perché giustamente è da me che sa dove dove è configurata perché lui la configura di default in un posto che sa lui no 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 questo l'ho fatto quanto io lui non sa niente no ok non sa niente ho fatto io è una cosa semplice è tutto semplice però vedi allora se tu una regola te la copi questo percorso vedi io non so come si chiama in italiano queste freccettine sopra non sono freccettine sì sono le virgolette le virgolette dentro le virgolette devi darci il nuovo percorso e poi se tu vuoi un altro formato ti copi una regola e dici tu sei che dico un obj vai qua dopo il punto e ci metti il formato e ti farà l'obj per esempio cosa che a me non mi serve tutto quello che inventor produce lui te lo farà ok senza dirgli ogni volta estrai fai no 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 ma ti faccio vedere come ci sono più ogni volta che salvi lui ti fa le tre segue la regola che tu gli hai impostato ti faccio vedere ci sono due vie una come hai detto tu e un'altra più dipende ti faccio vedere come ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi allora allora io ho dato solo il percorso ok e lui però è la regola che abbiamo il dvg e qua questo è importante se tu vuoi farti un'altra regola per i fatti tuoi che per esempio è obj oppure non so cosa vuoi fare con inventor salvare con dove tutte le cose che produce inventor lo puoi fare in poche parole ok basta solo che cambi qua vai qua e dico solo salva per il momento potevo fare anche salve e esegui però eseguo lo facciamo dopo adesso andiamo a configurare solo quella della della foto che c'è un altro formato migliore però adesso lasciamo stare questo ok salviamo e facciamo anche il pdf salva modifica regola allora tu li puoi modificare sia del 3d e sia del 2d ok questi questi percorsi se non cambi niente rimane sempre perfetto io quando lavoravo in azienda usavo inventor non mi dava mai problemi però io a casa faccio tanti esperimenti miglioro io mi studio io stesso hai visto per esempio ma non mi fermo mai però la mia idea è sempre fare le cose più semplici possibile è sempre più perfette è sempre evitare l'errore ok quando io quando succede un errore nei miei passaggi per me è semaforo rosso è semaforo rosso e luce blu devo intervenire ok adesso ho fatto questo salva adesso io ho configurato solo le regole ok niente di più ma da adesso in poi da adesso in poi no possiamo dire di questo disegno manualmente di qua fammi un pdf basta che tu vai qua destro e segui regola lui nella cartella qua mi ha fatto già il pdf vedi vado indietro per farti ricordare abbiamo detto neutral format no e mi ha fatto questo pdf di questo e non gli devi dire indina 3 indina 2 no no tutto lui sa quindi no non non te lo fa per tutte le cose che tu salvi le devi dire di là e segui regola no se vuoi un pdf questo è consigliato sul step veramente di fare questo ok ma quello che dici tu è un altro discorso e te lo faccio vedere pure è molto importante differenziare le cose daniel molto importante io esco da là vado qua vado qua e vado nel comando ilogic dove si trova ilogic fammi vedere un pochettino posizione devo trovare il comando ilogic ecco qua questo allora si chiama aggiungi non aggiungi regola scusami trigger di evento ok allora quando si apre questo trigger di evento no allora io questo la tolgo perché era nel mio template la devo aggiustare tu la puoi mettere nel template questa eh e automaticamente io la uso nel template nelle aziende però un discorso un po' pro a parte ora andiamo prima a finire il discorso quello che abbiamo aperto aspetta un attimo voglio vedere se registra tutto se sta registrando allora vado di nuovo indietro per farti capire il percorso chiudo tutto vai qua su gestione vai qua su trigger evento no se questa non ce l'hai eh questo è standard se questa non ce l'hai la puoi aggiungere diciamo sai come si aggiunge si 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 va nelle personalizzazioni si ok eh si aggiunge il modulo no ok poi andiamo a spiegarlo dopo che insomma qualcuno lo trova andiamo a farlo apposta quello che è importante adesso è trigger evento il trigger evento vai qua e dici io voglio un pdf e lo voglio dopo il salvataggio aspetta un po' hai visto io l'ho messo dopo il salvataggio del documento lui mi esegue sempre la regola ok puoi dire dopo l'apertura del documento prima di salvare dopo il salvataggio lui quando chiudo il documento qualsiasi modifica io consiglio solo dopo il salvataggio si per esempio per farti vedere mettiamo anche dopo il salvataggio il dvg e lo prendi con il track and drop lo metti là ok e però adesso questo appartiene solo a questo foglio eh solo a questo foglio se tu lo vai a mettere nel template ogni volta che fai un template nuovo dopo il salvataggio ti fa le cose è quello che consiglio io però ognuno lavora come vuole ma adesso io qua cosa faccio vado a mettere una quota mettiamo questa quota qua 80 e vado a salvarlo lui lui già mi ha fatto il pdf il dvg me lo dice guarda come lo vuoi configurare perché è la prima volta che lo sto facendo con il 2024 eh solo una volta ti viene poi se vuoi cambiare devi andare apposta a modificarlo io dico va bene la versione 2018 va bene va bene così standard prossimamente non me lo chiede più ok me lo salva per la versione 2018 il dvg ok poi se vuoi per versione precedente devi andare sempre a cambiare non è un problema allora ma noi che facciamo daniel andiamo nella cartella qua vedi e lui normalmente questo me lo zippa non ricordo bene l'ultima volta come ho cambiato qualcosa se vuole comunque vedi ma che io vado ad aprire qua vado a trovare la quota 80 ok non ho fatto niente hai visto io vado a chiudere e vado a fare una semplice e si aggiorna si aggiorna il file non è che ti fa due file ogni modifica che tu fai no si aggiorna sempre lo stesso ore sì ore 14 da adesso in poi sì perché abbiamo detto per salvataggio ore 14 e 24 ok vado a salvare qua ho salvato è finito una volta che io vado là qua vado ad aprirlo ed è già fatto no ho fatto prima io di lui ora mi porto un errore perché è in vedi adesso mi porto un errore perché lui non aveva finito aspetta un attimo lo spostiamo qua andiamo a salvare perché lui ogni volta mi fa il dvg al dvg impiega un po' qualche secondo in più ok da la priorità con il dvg devi aspettare che finisci con la rotellina no però tu nel frattempo non ti devi più concentrare me l'ha salvato non me l'ha salvato no ti devi dar tempo che te lo salva è lì però è già finito ma che io vado qua normalmente ci sarebbe anche l'orario vedi hai visto sì è e la stacosa ma però anche se io vado ad aprire questo con autocad anche l'hai aggiornato capito stessa cosa se io voglio un dvg o un dxf stessa cosa se voglio uno step no se voglio uno step per esempio l'unica cosa che devo fare devo andare dove è inventor qua qua per esempio del 3d lo step lo consiglio manualmente vai qua dico esegui regola pam e me l'ha fatta io vado nella cartella dove sono i file vedi ed è questo è già fatto hai visto questo è un file che me lo fa autocad il mio autocad è fatto con il backup il backup 2018 e un file di autocad se no il resto è tutto pulito se io vado ad aprire l'autocad cosa che ancora non è non è venuto quando vado ad aprire autocad vedi qua c'era l'orario quello che abbiamo detto noi prima per farti capire no e funziona tutto hai visto ho visto ho visto ho visto chiudiamo tutto chiudiamo tutto chiudiamo anche l'autocad e questo è il file step se io vado ad con inventor ad aprire questo giocattolino qua vado qua devo dire tutti i file mi troverà questo formato qua e me lo apre mi dice il percorso quello e quell'altro che va bene me lo ha spacchettato e il pezzo è fatto ecco visto questo è il step finito è una cosa semplice 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 io però mi sono scelvato una settimana però ti parlo del 2011 e niente è una cosa bella perché tu quando gli dici senti importante che allora io consiglio ti faccio vedere io cosa consiglio chiudiamo tutto qua allora io veramente consiglio Daniel a metterlo nel template se lo metti nel template va bene cioè basta solo che ti faccio vedere solo il vantaggio vado qua su inventor vado su il template vado a prendere quello del 2024 vado a prendere solo io prendo solo questo per me e qua vado in trigger di evento e questo lo tolgo ok rimuovi io vado a prendere lui me ne ha trovati i miei però sono quelli che ti ho fatto vedere a te io questi li cancello Daniel li cancello aspetto non si cancellano di qua ma si cancellano di qua regole esterne siamo qua rimuovi e che a volte io penso sempre in tedesco sai rimuovi rimuovi l'ho rimossi e adesso però i miei dati veramente sono qua non sono là sono PDM Dat Management qua sono i miei ok questi qua sono Neutral Format e queste sono le mie regole io li metto qua ok là è tutto dimostrativo per te Daniel per te e per farti vedere come funziona allora ricapitoliamo ricapitoliamo tutto e adesso io aggiungi regola vado però a dire un altro percorso perché queste sono le mie regole vado ad aprirle io ne ho un po' di più e e il mio percorso è qua eccolo il mio percorso è qua io ti faccio vedere solo una di PDF modifica mi cambio solo il percorso perché prima si chiamava I e adesso si chiama solo la prima letta dovevo cambiare in poche parole prima I adesso è K ho cambiato disco rigido quello che ti ho detto io a te ho usato l'SD adesso ho cambiato altra allora ho salvato questo e salva ok adesso però io qua le elimino per sicurezza questo e metto questo PDF dopo il salvataggio aspetta un po' PDF di qua dopo il salvataggio stiamo solo ripetendo ok adesso io l'ho salvato questo e l'ho fatto nel template cosa che dovresti fare anche tu Daniel allora io vado adesso nuovo ok vado ad aprire questo vado a portare una parte io non ho niente di andiamo a prendere un pezzo di motore moto 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 accessori andiamo a prendere cosa andiamo a prendere ah questo porta casco mi interessa ah ecco l'autocad andiamo a prendere qualcosa di inventor andiamo a prendere un tappo di benzina facciamo il pieno allora adesso che io vado a salvarlo non devo fare più niente mi dici guarda questo io lo butterò a breve o poi lo metterò moto e motore e motori lo metterò qua accessori vedi come riesco io a trovare subito tutto guarda Daniel vedi perché è sistematico trappo di benzina pam qua dentro questa è la parte quello di destra era più bello ho preso uno più brutto fa niente adesso l'ho salvato anche il file dove si trova di più non devo fare l'ho salvato quando io vado nella mia cartella dei formati neutrali vado a dire sortisce col nome per farti vedere che sopra sopra c'è lui ecco visto così dovresti fare ok e ogni volta che vai a aprire guarda ora ne faccio vedere un altro andiamo chiudiamo questo e però oppure se ti serve il DXF il DVG diciamo io adesso vado a prendere questo che è più bello io di questo tappo di serbatoio questo l'ho fatto il 2009 già guarda il 2009 come disegnavo io mi arrangiavo dai è perché questa è una cosa semplice credo che ne ho fatto uno più bello comunque non è quello io vado a prendere il disegno vado a fare il disegno tecnico di questo tappo vado a portare questo disegnino così altri visti non mi interessano proprio per il momento vado a salvare giustamente no dove era l'altro dove è questo qua ho salvato non devi fare più niente Daniele metti i casi che serve un DVG un DXF 100% è già in quella in quella cartella qua dove sono i formati ecco ok eccolo dov'è visto è uguale che step è uguale che DVG tutto quello che produce l'inventor è la stessa cosa ok Daniele io devo andare ti ringrazio di aver partecipato grazie mille grazie anche a te ci sentiamo alla prossima ciao Daniele ci sentiamo per altre cose va bene ciao 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 ciao